Viene esposto il cartello che indica tre giri e alla partenza troviamo gli atleti della categoria G2 che quest'oggi si affronteranno qui a Villongo per il 27esimo trofeo Giovanni Cadei alla memoria Partenza sprombattuto anche per quanto riguarda i piccoli atleti della categoria G2 inoltre anche il percorso impegnativo ha dato una mano a fare la selezione un gruppetto di quattro atleti in testa alla corsa al suono della campana inizia l'ultimo giro quindi tra poco scopriremo anche il vincitore della categoria G2 Sono proprio gli atleti di questo quartetto a giocarsi la vittoria la volata parte lunghissima e decreta vincitore Alberto Savoldi davanti a Thomas Biondo e Giovanni Bellini leggiamo insieme anche la classifica della categoria G2 con il quinto posto di Michele Canobbio della Villongo quarto Jonathan Totti della GF Fulgor, terzo Giovanni Bellini della Villongo secondo Thomas Biondo della ceramica Pagnoncelli e vincitore Alberto Savoldi dell'Albano Ciclino artistica grazie a tutti soon Pensandolo